Ancora insieme con Dentro i Fatti e Proprio, avete sentito l'ultima notizia, proprio di decreto sostegno. Noi parliamo, voglio subito dare il benvenuto a Giuseppe Di Taranto, economista, professore della LUIS. Benvenuto, buon pomeriggio. Grazie. Con lei vorrei soffermarmi un momento su un'altra cosa importante, l'abbiamo analizzate tante oggi delle parole ieri del Presidente del Consiglio Draghi, un'altra cosa molto importante che è quello di un nuovo scostamento di bilancio. Non so se lei ha fatto in tempo a vedere la nostra copertina, abbiamo ripreso delle parole di Draghi del passato, diventate famose, il debito buono. Questo è in qualche modo il debito buono. Il Presidente del Consiglio dice benissimo, io la prossima settimana faccio arrivare il decreto sostegno, 32 miliardi, cercheremo di fare misure corpose, rapide, poi parliamo dei cambiamenti, però non bastano, ci vorrà un altro scostamento di bilancio. Cosa vuol dire questo per il nostro Paese, per il nostro deficit, per il nostro debito? Allora, noi di fatto dal secondo governo Conte abbiamo attuato spostamenti di bilancio fino al 2026, quindi già impegnati, già attuati, per circa 426 miliardi, contro 209 miliardi dell'ormai famoso Recovery Fund. Cosa significa tutto questo? Noi alcune di queste spese siamo stati pressoché un po' costretti a farle, questo va detto, non soltanto per i ristori, ma diciamo che in questi 426 miliardi, per esempio ne sono compresi 155 che sono stati utili impegnare per le clausole, anzi per cancellare le clausole di salvaguardia dell'IVA, che erano diventate un po' un pericolo ogni anno per noi. Ci sono stati anche quasi 40 miliardi, di cui 22 sono stati in deficit, dell'ultima finanziaria e così via. Per ciò che lei mi chiedeva relativamente poi al reddito buono, al debito buono e al debito cattivo, beh guardi, io direi che questo debito che si sta facendo in questo momento è necessario, è necessario perché Draghi ha sempre distinto giustamente il debito buono che è quello fatto per investire, l'investimento creando ricchezza di fatto diminuisce anche il famoso rapporto debito-PIL così come diminuisce il rapporto deficit-PIL, ma in questo momento noi dobbiamo dare assolutamente dei ristori, non a caso questi decreti si chiamano molto spesso sostegno-ristori, alle categorie che sono state più colpite dalla crisi e per questo dovremmo avere tra l'altro ad aprile prossimo un altro spostamento di bilancio che è di circa 20 miliardi. Esatto. Quindi direi che in questo momento non è debito buono, non è debito cattivo, ma soprattutto debito necessario. Ecco, ma questo debito è necessario, poi, non so come dire, che prezzo avrà su di noi? Oggi è necessario? Domani sarà un ulteriore problema per questo Paese finita l'emergenza o come dire, appunto, è talmente necessario che poi non va a influire su quella che in realtà è la nostra situazione? Lei ha ragione, ma diciamo che questo debito necessario in questo momento dovrebbe poi trasformarsi in debito buono, mi spiego meglio, perché se noi riusciremo effettivamente ad attuare tutti gli investimenti che dovremmo fare per il recovery fund, investimenti che poi sono previsti, non voglio dire imposti per carità, ma sono previsti dall'Europa, green economy, digitalizzazione, inclusione sociale, beh, se questo aumenterà la ricchezza, probabilmente noi riusciremo a cancellare parte di questo debito necessario dei sussidi. Ecco perché ora è fondamentale vedere come riusciremo a spendere, chiaro, che ci verrà dalle risorse del recovery fund, altrimenti rientreremo nel debito cattivo. Entriamo un momento nelle novità che col nuovo decreto sostegno dovrebbero arrivare. In qualche modo cambiano diverse cose, si allarga un po' la platea. Intanto si parla di rimborso per aziende con fatturato fino a 10 milioni per chi ha perso nell'anno precedente il 33%, chiaramente oltre. Ecco, è qualcosa secondo lei di giusto rispetto al passato? In passato c'era un tetto più basso. Sì, sicuramente. Guardi, le imprese rappresentano il cuore dell'economia in ogni paese, ovviamente, non soltanto in Italia. In molti paesi si sta facendo di più, come per esempio in Germania, ma è anche vero che sono paesi che hanno molte più risorse rispetto all'Italia. Anche me lo lasci dire, insomma, per delle regole europee che ormai sono state tutte sospese, quindi non so fino a che punto queste regole erano giuste. Proprio ieri, per esempio, la Lagarde ha detto giustamente che bisogna rivedere il patto di stabilità. Queste regole hanno fatto sì che i paesi del nord si avvantaggiassero, cioè avessero nel tempo dal trattato di Maschita oggi molte più risorse rispetto ai paesi del sud. Non voglio dire a volte drenando, come è successo, risorse dai paesi del sud. E quindi ora sono in grado di affrontare meglio la pandemia. Noi ci dovremmo mettere su questa strada. Speriamo che ci riusciremo. D'altro canto, questo denaro e queste risorse servono soprattutto alla proroga della cassa integrazione, servono sostanzialmente a dare uno stop a tutto ciò che riguarda la fiscalità, perché sappiamo che ci sono tantissime tasse ormai arretrate. Si va verso un condono, la interrompo su questo punto, si va verso un condono per le cartelle, se non sbaglio, 2000-2015, giusto? Sì, sì, almeno un condono che dovrebbe comprendere le cartelle intorno massimo ai 5.000 euro. E poi tra l'altro c'è la proroga degli ammortizzatori sociali. Ecco, un altro punto è importante. Sì, e perciò le dicevo, sono spese queste che in questo momento sono necessarie. E quindi non se ne può assolutamente fare almeno. Il punto è come spenderemo il denaro del ricovero di fatti. Non dobbiamo fare interventi a pioggia, assolutamente no. Dobbiamo fare interventi strutturali, interventi che riguardino gli investimenti e soprattutto poi interventi che siano nell'ambito della giustiziazione, inclusione sociale, green economy e tutto quanto ci chiede l'Europa. Beh, quando è nato questo governo tutti abbiamo detto che nasceva su quello, no? Che dovremmo stare tranquilli. Franco ha già parlato in Parlamento, no? Pochi giorni fa, ha già dato un'idea. Però non so se lei già ne sa qualcosa di più su poi concretamente come si sta muovendo sul recovery il governo. No, guardi, non ne so di più. È un governo che parla poco, lo sappiamo. Beh, è nello stile di Draghi. Però ti lasci dire che veramente penso che Draghi sia stata la scelta giusta. Perché in questo momento noi abbiamo bisogno di essere tutelati dall'Europa proprio per non perdere questi fondi, anche attuando piani ben strutturati. Draghi è molto conosciuto, non soltanto in Europa, ma è conosciuto nel mondo. E quindi penso che sia stata veramente una scelta giusta. Ecco, l'uomo giusto al posto giusto in questo momento. E su quello si giocherà tutto. Anche il rendere, come abbiamo detto prima, questo debito che è il nostro spauracchio, no? Un debito che magari in futuro potremo davvero definire buono. Grazie al professor Giuseppe Di Taranto per essere stato con noi. Ci fermiamo. Notiziario delle 16. Grazie a tutti.